Si conferma anche per il 2020 la bandiera blu per le spiagge e gli approdi per la città di Agropoli. Quest'anno la città, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha conquistato il ventunesimo vessillo. Questa mattina, in virtù dell'emergenza coronavirus, la cerimonia di assegnazione alle 195 località italiane premiate si è tenuta in diretta Facebook sul gruppo chiuso Conferenza Bandiera Blu 2020. L'importante riconoscimento internazionale viene assegnato ogni anno alle località turistiche e balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alle acque di balneazione, alle spiagge e ai servizi offerti. Si tratta per Agropoli del ventunesimo riconoscimento consecutivo per le spiagge e l'ottavo per la prodo turistico. Oltre alla spiaggia del Lungomare San Marco e alla Baia di Trentova, la bandiera blu sventolerà anche quest'anno sulla spiaggia della Marina, presso il porto turistico. Siamo felici, afferma il sindaco Adamo Coppola, di poter vedere sventolare anche quest'anno sulle nostre spiagge l'importante vessillo rilasciato ogni anno dalla FEE Italia, dopo un'accurata selezione che impone il rispetto di determinati standard, taluni dei quali anche molto restrittivi per quanto riguarda la qualità delle acque, la gestione ambientale, servizi e sicurezza, educazione ambientale e informazione. Ci prepariamo a vivere un'estate certamente diversa da quest'anno prosegue a causa dell'emergenza Covid-19. Sarà nel segno dell'accoglienza in sicurezza ma sempre con spiagge ospitali, servizi e mare limpido. Stiamo lavorando, infine, conclude, per poter dare una volta per tutte una risoluzione al problema della posidonia spiaggiata per la quale si stanno vagliando diverse ipotesi. Sono molto soddisfatto, dichiara il consigliere con delega al porto e demanio Giuseppe di Filippo, che Agropoli sia sempre tra le eccellenze del turismo italiano. L'assegnazione di bandiera blu è sinonimo di incontaminazione delle acque, pulizia delle aree marine e qualità dei servizi offerti ai turisti e ai nostri concittadini. Questo traguardo deve essere solo il punto di partenza per rendere sempre più fruibili, sicure ed accessibili le nostre spiagge, soprattutto in questo periodo di emergenza e di incertezza, e credo che la bandiera blu possa essere un volano importante per la ripartenza di una stagione estiva che potrà solo portare miglioramenti nella qualità dell'accoglienza e della fruibilità delle nostre spiagge.